L'estate 2021 è ormai alle porte, con la pandemia da Covid-19 che, come lo scorso anno, sembrerebbe aver abbassato la guardia. I dati sono incoraggianti in tutta la penisola, con il tasso di positività al picco registrato pari allo 0,5%. Una situazione di grande miglioramento stando al periodo invernale, dove l'Italia ha visto arrivare i suoi numeri oltre il 20% di tamponi positivi. I nuovi positivi giornalieri riescono a non superare quota mille per la quarta giornata di fila, chiudendo a 951 nuovi contagi. Calano anche i decessi odierni, nella giornata di ieri, 30 alle persone decedute. In contrapposizione i pazienti guariti da Covid-19 che viaggiano sulle circa 4.000 guarigioni giornaliere. Una curva epidemiologica che si appiattisce e lascia ben sperare in vista della stagione estiva. Migliora anche la situazione del sistema sanitario. Calano le ospedalizzazioni con un dato complessivo di recovery pari a 2.140, circa 150 pazienti in meno al giorno precedente. Le terapie intensive contano invece 344 pazienti. Continua anche la campagna vaccinale. Dopo i dubbi e gli stop che hanno fatto la protagonista, con la primavera si è avuto il vero e proprio sprint che ha visto i numeri di dosi giornaliere inoculate sempre maggiori. L'immunità di Greggia appare ben lontana, ma la soglia del 50% della popolazione con prima dose è stata da tempo superata, lasciando ben sperare. Circa 14 milioni di italiani immunizzati che hanno ricevuto la seconda dose per un totale complessivo di oltre 43 milioni di dosi inoculate. Le regioni in testa alla classifica per numero di somministrazioni sono ad oggi Emilia-Romagna, Abruzzo e Lombardia. Sulla base dei dati Istat è possibile rilevare che la percentuale di over 90 vaccinati è ormai pari al 95%, over 80 di poco sotto al 92%, over 70 all'85%, fascia 60-69 al 75%, over 50 al 64,7%, mentre tutti coloro dai 50 in giù non raggiungono ancora quota 50%. Se si continuerà su questa scia entro il 18 settembre circa l'80% degli italiani avrà ricevuto a meno una dose rendendo in quel momento la prospettiva immunità di Greggia decisamente più concreta. In campagna nella giornata di ieri sono stati 110 nuovi casi da Covid-19 a fronte di 8.386 tamponi effettuati. Dei nuovi casi 70 sono asintomatici, mentre 40 hanno invece mostrato sintomi. Stando al rapporto tra tamponi e risultati positivi su quelli analizzati, oggi il tasso di incidenza si attesta all'1,31%. In campagna nelle ultime 24 ore si sono registrati purtroppo anche due nuovi decessi. Nessuno di loro si riferisce però alle ultime 48 ore, ma si è verificato in precedenza ed è stato registrato soltanto ieri. A preoccupare è però la variante indiana, anche denominata Delta. Il nuovo ceppo ha preso piede nelle ultime settimane con la campagna che ufficializza 82 pazienti con variante Delta, 44 dei quali attore del greco. Una situazione che deve essere però controllata e gestita con responsabilità. Anche il presidente De Luca torna a parlare della situazione Covid nella sua regione, proprio a pochi giorni dall'abolizione della mascherina. Non è l'abbandono della mascherina segnare la riapertura. Toglierla non è conquistare lo sbarco in Normandia o firmare la Costituzione Democratica. I turisti arrivano quando percepiscono una società responsabile e non perduta nella Movida, senza regole che ci porterà un nuovo calvario a ottobre. Questo quanto dichiarato da Vincenzo De Luca.